Siamo con il Presidente Filetti, Presidente di Camera di Commercio, che dà il suo appoggio a questa iniziativa, alla nuova edizione del SAI. A noi abbiamo una storia alle spalle che ha identificato Bologna come la capitale che è tuttora dell'edilizia. Il fatto che ci siano metodi che vanno al di là della correttezza per appropriarsi, credo che non sia certamente una concorrenza alla quale noi per ora non ci siamo minimamente dedicati, però non è escluso che anche Bologna a un certo punto lo debba necessariamente fare, non lo vorremmo fare. Fortunatamente abbiamo un Presidente molto determinato, molto presente e molto chiaro anche. Non possiamo mescolare l'edilizia con quelle che sono componenti del legno, perché la manifestazione che avviene contestualmente è una manifestazione del legno, non dell'edilizia. L'edilizia siamo noi, quindi questo deve essere un salone che deve mantenere le sue peculiarità, che deve mantenere il suo sviluppo e sul quale noi intendiamo essere partecipi e presenti. Come Camera di Commercio io ho detto e ho fatto per il passato. Tutto quello che la Fiera ci ha chiesto noi l'abbiamo dato, oggi come oggi siamo ancora più determinati a essere una funzione e essere un compagno direi anche fondamentali in determinati frangenti. Grazie Presidente.